segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te richiedo alessandro quanto ti ha stupito il finale e più ancora ti chiedo tu hai intervistato calenda in realtà questa è stata una storia d'amore rapida ma non un finale in dolore sembrerebbe ah no non mi ha stupito perché insomma io l'amore diciamo non non l'ho visto perché calenda nel nel 2021 guarda ce l'ho qua me le sono scaricata calenda diceva nel 2021 non farò politica con renzi il suo modo di fare politica mi fa orrore e altre amenità di questo tipo poi si sono messi insieme forse pensava di redimerlo però come si dice a napoli tiziana chi va per questi mavi questi pesci prende insomma no è andata a finire come è andata a finire la cosa invece che che mi colpisce è che in questa separazione che è un gigantesco spot per l'antipolitica tu mi devi spiegare trova uno normale diciamo che non che che capisce che cosa sta succedendo non non c'è niente di politico cioè sai uno dice io voglio mandare le armi in ucraina e io non le voglio mandare è una questione di fondo divimente ci si separa io mi voglio alleare con il pd e io voglio allearmi con forza italia e così via l'immigrazione su questioni di fondo no no tutto hai ragione infatti su questo punto calenda risponde ma io ho scelto renzi per questo però se lui non vuole stare con me che ci posso fare questo mi sembra sia la risposta di calenda no sul punto specifico sì però stanno discutendo il termine della questione e diciamo che appunto a un appeal prossimo allo zero è ci sciogliamo contestualmente prima dopo i soldi vogliamo andare prima che cambiano canale andiamo al cuore politico della questione andiamo al cuore il cuore politico della questione perché ora secondo me perché il progetto è fallito ma è fallito nelle sue radici i nostri eroi dicevano prima delle elezioni no votate per il cosiddetto terzo polo perché non vincerà così nell'uno nell'altro e torna draghi e si è visto come è andato a finire peraltro numericamente non sono neanche il terzo polo perché il primo è la meloni poi c'è il pd poi ci sono i cinque stelle sono il quarto e adesso si vedrà se sono il quarto se mantengono quella posizione e sulla base quindi puntando come perno dell'ingovernabilità dicevano si scardi nel bipolarismo centrodestra centrosinistra e ragazzi e questo è un clamoroso fallimento strategico abbiamo un governo politico di centrodestra elettore popolo e la meloni che tutto sommato ha ribipolarizzato il sistema politico ora davanti a questo fallimento strategico io mi aspetterei diciamo da se ci fossero delle leadership degne di questo nome da e mi aspetterei un cambio di passo no dicendo vabbè prendiamo atto il tentativo non è riuscito la fase è cambiata la fase e quindi cerchiamo di capire anche dove posizionarci c'è la domanda che ti poni tu è esiste o non esiste quello spazio che loro avevano immaginato forse la realtà ci dice quello spazio non esiste più e allora che indirizzo volete prendere e quindi e quindi e quindi